Sì, è vero! 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 No, io no! Qua sia la cosa! Io non sono ancora fai la pipì che devo andare a fare pipì! No, io ho già fatto due volte! Qualcos'altro! Adesso vado a sonnare qualcuno del palazzo e gli dicevi, vabbè vedeva dentro casa! Allora, la partita! Ragazzi, mi stava dicendo, ragazzi entrate nelle gambe per fare male! Questo è il torneo! Nell'ordine, Juventus, Lecco, Sampdoria, Alessandria! Quinta edizione, Torneo Quarto Sport! Sì, è vero! Sì, è vero! L'Ecco non lo conosco! Brescia, Provercelli, Ferral Pisano al posto di Milano Inter-Juve! Ma io vi questo che sotto lo facevano Milano Inter-Juve! L'anno scorso c'è! La Juve c'è, è vero! La Juve c'è, è vero! Voi ci siete, infatti! Ho sbagliato l'Atalanta! Volevo dire l'Atalanta e ho detto Juve! Cioè, un po' si fa capire solo questo L'Inter ha mandato le donne! Pensa! In Milano Famosi! Per cui, tutte le succursale! Cos'è sta raccontando la sorella? Regolamento! Entrate nelle gambe e fate male! Soprattutto quando giocate contro le donne! Speriamo di no! Bravi! Un applauso così magari sia una mossa! Hai visto? Hai visto? Ha funzionato! Palla al centro, salamella in tribuna, grazie! Palla al centro, salamella in tribuna! Quelli della Juve sono bravi! Mi ricordo! Poi si ottengono tutti! Pesito! Questo anno siamo al giorno 49! La settimana è fatica! Esatto! Questa categoria qua è abbandonata! Gli ho visti un po' tutti in difficoltà! Perché è normale! Esatto! Poi, onestamente, il campo è anche brutto! Spelacchiato! Con un po' di fatica! Tomas gioca in difesa! Tomas ci indifese, hai visto? In difesa! Sì, guarda! Tomas è centrale in difesa! No, non c'è... Tometti? Sì, sì! Schema, guarda lo schema! Palla a Tomas! Non c'è... Destini! Solo che tante volte, quando non c'è desti, Tomas dà sempre la palla lunga! Ho convinto che c'è desti! Ma non c'è sempre desti! Guarda! Non c'è sempre un po' di freddo! Visto? Ed ali! Guarda! Una c'è! Nick! Stai sempre fokussi! Tutto bene! Tutto bene! Tutto bene! Non c'è! 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 Visto! Ah, cazzo di destromarcio, diciamo, col padre, col destromarcio, così si, io lo facciamo Adesso cerchiamo di non fare il padre, cerchiamo di fare... Il sinistro è un'altra cosa Dai, Thomas, che sei più alto di testa, su Arriga Quando va l'ha mi dà fastidio Adesso, guarda adesso Ah, che l'hai visto Guarda, fa col... Però vedi cosa sbagli a troppo, siccome non deve andare a prendere la pallata Che lì c'entra le due e farà il limite Adesso quella palla non c'è No, no, ma non è lui che io, se non glielo dice il mister Ma è giusto, devi farla Ecco, bello No, però se il mister fa adesso il limite, quella palla C'è il mister c'estera diiciosare da un'altra parte Eh ? Cioè, come ti dico ? Voi sbagliamo E non l'hai fai con�를 Tira, 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 bravo, mettila in mezzo, bravo, 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 bra vai Questi sono i suoi tacchi, buongiorno. Edo, l'hai caricato al tuo idolo? Il tuo idolo l'hai caricato? Edo, l'hai caricato. Edo, l'hai caricato? Edo, l'hai caricato? Dai, dai, dai. Guarda, guarda, guarda. adesso rientra, adesso devo rientrare dovevo rientrare invece bello è stato un po' di qui 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 grande vai 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 grazie dai Marco, dai Andre bravo dai Andre dai Andre dai 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 calma 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 bella calma dai dai fai gol fai gol bravo è uscito Paglia è buon? è buon? è buon? è buon? è buon? sì sì è buon? ha vibrato ha vibrato ha vibrato l'orologio ha vibrato l'orologio è buon? è buon? bella è buon? 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 e passate no bello 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 bell to bello s bello 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 Grazie a tutti. 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 Dove si può facciamo i buffoncelli. Ha vinto il Genoa? No, primo? Sì, 3-0. Ah, 3-0, grazie. Ma le ragazze dell'Inter sono 2007-2008? Non lo so, secondo me sono 2007-2008? Un anno in più. Secondo me quelle donne anche due le mettono l'anno in più. Io ho sentito che avrebbero venuto venire l'anno in più, però non l'ho visto. dopo guardo. Gli under 14 quando hanno giocato contro l'FM hanno giocato contro gli under 19. in effetti è vero che ci vediamo qua. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. Sì, due pari gioco delle donne. Ho sempre due, ma ho due. Io vedo due. Adesso, prima toggoci per l'anno. Dai, André! non c'è più voglia tira tira bello devo fare ricloci o mette è angolata C'è gente che lavora a sabato, non è che fanno benestanti come tanti. C'è gente che lavora a sabato, non è che fanno benessere, non è che fanno benessere, non è che fanno benessere. C'è gente che lavora a sabato, non è che fanno benessere. C'è gente che lavora a sabato, non è che fanno benessere, non è che fanno benessere. C'è gente che lavora a sabato, non è che fanno benessere. C'è gente che lavora a sabato, non è che fanno benessere. C'è gente che lavora a sabato, non è che fanno benessere. C'è gente che lavora a sabato. C'è gente che lavora a sabato, non è che fanno benessere. C'è gente che lavora a sabato, non è che fanno benessere. C'è gente che lavora a sabato, non è che fanno benessere. C'è gente che lavora a sabato, non è che fanno benessere. C'è gente che lavora a sabato, non è che fanno benessere. Non è che fanno benessere. Non scalda proprio. C'è passato a sabato sembra uguale a prima. Allora noi si dovremmo facciare più freddo. Davanti alle sette. Botta, botta, botta. C'è passato a sabato. Non c'hai visto commentato. Io facevo così anche. Tu? Io avevo più classe. Più eleganza. Non è che c'è il tuo socio che ha testimone? No ma quando giocavo io non c'era nulla idea. Non c'era nulla idea. Non c'era nulla idea. Non c'era nulla idea. Anche sull'album dai più o meno. Io ero ancora meglio, devi mettere ancora un po'. Vai picchia tu. Allora non è finito. Vai picchia tu. Usi uno di questi. Chi non sa. Vai bene. Anche dopo la nuova scena. Non è finito? Sì. Guardate, chi vede. Guarda lì. Guardate lì. Guarda lì. esperienza saluti 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 saluti